Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren Pensavate di non vedermi mai più su questo cazzo di gioco Ma sono di nuovo qua, ovvero non sono qua con un account mio Ma stamattina, come un buon super eroe di quartiere Il mio carissimo fratmo carnale, in cui stavamo cresciuti insieme Giocavamo a pallone per le strade di Napoli Quindi voglio dire, è proprio un'amicizia che va avanti da secoli, secoli, secoli e secoli Stamattina il mio amico Gaetano, con cui sono cresciuto l'infanzia Ha provato a pullare un mille dream ball, non lo so quando ne ha pullate E non è uscito un cazzo di niente Quindi con le ultime dream ball rimanenti dobbiamo far accadere il miracolo Dobbiamo cercare di fare quello che gli altri non sono riusciti a fare Quindi dobbiamo andare ad aprire non questo dream festival Per modo di dire, dobbiamo andare ad aprire questo dream festival in maniera whatsapp Soprattutto perché Gaetano non è uno scioppone, ma è un free to play Quindi queste dream ball sono proprio sfutate, proprio con la matoschella E quindi non posso, non posso farlo uscire senza il fottutissimo Nino D'Angelo che lui vuole Lui vuole Nino D'Angelo, quindi andiamo a vedere Nino D'Angelo a schermo Lui vuole Nino D'Angelo e Nino D'Angelo avrà Quindi se ci siamo capiti su che cosa dobbiamo fare Se non abbiamo dubbi, perché se avete dubbi ditemelo ora Non so come potete dirmelo ora, visto che non è in tempo reale Se c'è qualche dubbio ditemelo ora, perché altrimenti io vado Sparo queste tre, no, tre e sei, perché mi ha dato 300 dream ball di fiducia Mi ha dato 300 dream ball di fiducia E io non posso deludere fratmo Gaetano Quindi siccome la fratellanza è più importante dei pull Rido perché se va male, cioè io gli ho buttato 300 dream ball Se va male, penso proprio che mi viene a prendere a paccare E proprio a schiaffi Ok, quindi Anche se sto ridendo Ma non sto ridendo realmente Mi sono alzato dal letto Solo per pullare Solo per pullare a Gaetano Perché oggi potevo tranquillamente dormire Quindi siamo pronti Ci siamo Questo è per fratmo Gaetano Che Che le madonne siano con me e con il mio spirito Madonne Ci siete? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? La luce c'era Il pallone c'era Se me ne dà un altro No? No Diciamo che come primo non ci possiamo lamentare Già che siamo partiti con un SSR Già il significato di Di Leo Già il significato di Leo Quindi Primo SSR Gaetano mi sputerà in faccia Ma ragazzi Pray for Gaetano Hashtag Gaetano We will do it Ce la faremo in una maniera o nell'altra Prima pullata Sembrava Sembrava entusiasmare Mi sono entusiasmato stesso io Ma è stato uno shaft Di dimensioni colossali Quindi ok Prima pullata Era 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 andata Era andata Cioè la luce c'era La cosa c'era Nel pull iniziale Eppure era pure semplice Cioè non dava l'idea Di un SSR Ma le fiamme si sono illuminate Il corazonno è andato E poi Si è perso per la strada Questa è vuota Me lo sento Eh Voglio vuota Aspettate Faccio un attimo La preghiera San San Gennaro San Gennaro San Gennaro Se mi vedi Ah già fu un miracolo Per frate Ma Gaetano Mi raccomando San Gennaro O prossimo Serve chi serve Serve Nino D'Angelo Mi raccomando Stamma a Napola Grazie San Gennaro Ah Ok Quindi dopo aver fatto La preghiera Due pull E Gaetano L'inventario è pieno Però Non fai pure sti cosi Mentre faccio il video Che bendo Allena me Vediamo se Che ci posso allenare Ok ragazzi Dopo aver pulito L'inventario Che è stato un attimo Un trauma Dopo aver pulito L'inventario Siamo tornati Quindi Due estrazioni Una Un SSR Che quindi sembrava Che eravamo partiti Proprio con Con la cosa Proprio giusta Di dire Gaetano Proprio spaccato Un SSR Che purtroppo È stato Leo L'altra invece È stata una multivuota Shaftata In malo modo Quindi andiamo Ci buttiamo E stavolta Ci portiamo a casa Chester Perché ci dobbiamo portare A casa Chester È una promessa Cioè quando tu fai Una promessa A qualcuno Dove sta il mio SSR Ehi Carmela Il mio SSR Oh Eh Il cane voleva Ascire il SSR Una ciautane Mamma ta Su Zoccola 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 Infame Cesse Bastarda Eh vabbè ragazzi Per l'amor di Dio Non si può dire niente Era quello che volevo io Sul mio account Ma Perché la cosa Erba Gaetano Quindi Siamo ancora qua Deve ancora uscire Il personaggio giusto Deve ancora uscire Il personaggio giusto Deve ancora uscire Il personaggio giusto Quindi calma Diciamo che qualcosa Ok Stavo un attimo scrivendo Per essere sicuro Gli servisse Cester Non Margus Quindi Andiamo avanti Uno L'abbiamo fatto uscire Ci rimangono Altri Tre tiri E quindi In questi Altri tre tiri Dobbiamo far uscire Il compagniello Biondo Il compagniello Questa è vuota Si vede proprio Da quell'inizio Cioè subito Lo capisci Quando la molti vuota Proprio la freccetta Te lo dice Ti dice Ciao Sono vuoto Come stai Quindi stiamo facendo La media di una vuota E una piena Ragazzi Ultime due estrazioni Dopodiché Ho chiuso Ho fatto Cioè ho fatto il possibile Ho provato A fare il possibile E io ho buttato Trecento Dreamable Nel gabinet Ma ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Vuota Anche questa vuota Chester mi raccomando È l'ultima estrazione Non mongolare Perché è l'ultima estrazione Non mongolare con me Perché su sei solo due SSR No Almeno Almeno tre Raga vuota No non vuota Non vuota Questo è Chester Questo è Chester Questo è Chester Due Questo è Chester Questo me lo sento è Chester Epic comeback Epic comeback dal nulla Ma vaffanculo Mezzo di merda Di un nano fottuto bastardo Che cazzo vuoi dalla mia esistenza Cosa cazzo vuoi E vabbè E niente E raga Ci ho provato Ma Il culo non mi ha detto Non me l'ha dato Non è andato Non è andato Purtroppo Sto dando a Gatano La cattiva notizia Non so perché Sono andato nella sua squadra Sto dando a Gatano La cattiva notizia Raga Purtroppo Ho shaftato In In maniera brutale Purtroppo Ho shaftato In maniera brutale Purtroppo Non è andata Come Riesco ad andare Nella selezione Dei personaggi Cioè è possibile Che sono diventato Così ritardato Due mesi Non è che mi rendono Mongoloide Inizio a quanto pare Sarebbe oro Ma purtroppo Nulla da fare Per quanto riguarda Chester Quindi Due SSR Nella stessa multi Ma non Quello che Serviva a noi Quindi ragazzi Purtroppo Chiudo questo video Con la testa abbassata Perché non sono riuscito A portare a casa Quello che serviva Al mio amichetto Spero che Il video vi sia piaciuto Anche se è un po' Scombinato Perché in tempo reale Stavo comunicando con lui Per dire Il buono E il cattivo Sembrava che Quei due SSR Finali Fossero proprio Ma Quei due SSR Finali Sono stati Per questo video è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che A me non è piaciuto Come sempre I miei pulle Non mi piacciono mai Però Che dire Ci becchiamo Nella prossimo video Che non so quando sarà Non so se ci sarà Ma so che un giorno Apparirò